Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un falso amico, false friend. In English we say class. In italiano non diciamo classe. Esiste la parola classe ma ha un significato diverso. Vediamo come si dice Italian class in italiano. Italian class in italiano si dice la lezione di italiano. Come si dice chemistry class? La lezione di chimica. Come si dice painting class? La lezione di pittura. Come si dice drawing class? La lezione di disegno. Mettiamo in pratica. The math class is very difficult but Italian class is easy and fun. Class is difficult. La lezione di matematica è difficile ma la lezione di italiano è facile e divertente. Molti miei studenti mi dicono Alessandra I won't be in class tomorrow. I have a doctor appointment. Come si traduce? I won't be in class tomorrow. Non sarò a lezione domani perché ho un appuntamento dal dottore. Allora la parola classe ha un significato diverso dall'inglese. Ha il significato di classroom. La classe di italiano vuole dire the Italian classroom. Mettiamo in pratica. The history class is in room 3 tomorrow. La lezione di storia è nella classe numero 3 domani. O invece di classe, la classe numero 3 possiamo anche dire l'aula numero 3. Quindi la lezione di storia è nell'aula numero 3 domani. Classe ha anche un significato di gruppo di studenti, per esempio. Siamo in pratica. Se devo tradurre la frase All the second grades are going to the field trip to Milan. Io dirò Tutta la classe di seconda elementare andrà in gita a Milano. In questo caso, non ha il significato di classroom. It's not the classroom that goes to Milan, ma sarà il gruppo di studenti, the student body in second grade, that will go to Milan in the field trip. Ultimo. Mettiamo tutto insieme. Come si traduce questa frase? Today the first grade will do Spanish class in the history classroom. Oggi la classe di prima elementare farà lezione di spagnolo nella classe di storia. Ultimo esempio. There are seven Italian classes in the summer session. Come si traduce questa in italiano? Ci sono sette lezioni di italiano nella sessione estiva. Riassumendo. Class si dice la lezione. Classroom la classe. All students in a grade si dice la classe di prima elementare, seconda elementare, eccetera. Se vi è piaciuto questo video, per favore mettete un like, share the video, comment and subscribe. Arrivederci alla prossima. Ciao.